Cambiare l'approccio perché l'erosione va combattuta in altro modo. Il consigliere provinciale Dante Santoro, in vista del Consiglio Provinciale di domani, ha tenuto stamani una conferenza stampa per discutere del grande progetto litorale di Salerno per ribadire l'esigenza di una rivisitazione del progetto con modifiche ancora possibili prima dell'inizio dei lavori. Stamani, presso l'ufficio del gruppo consigliare La Provincia di Tutti a Palazzo Sant'Agostino, anche Italia Nostra, Sinistra Italiana ed esperti del settore. C'è un pericolo, un pericolo serio. Rischiamo l'ennesimo spreco di milioni di euro di danaro pubblico perché c'è un progetto che ad avviso di tante associazioni di ambientalisti, tecnici e conoscitori della materia, è un progetto che ha delle controindicazioni. Noi siamo per il rilancio del frontemare ma vogliamo evitare casi recenti. Abbiamo visto a Mercatello l'erosione mai risolta, nonostante i milioni di euro sprecati da comune e provincia. Quindi chiediamo di aprire un tavolo di concertazione, di fare un confronto che è ancora possibile perché noi vogliamo la rinascita del frontemare, è la nostra prerogativa, però passa anche da queste occasioni e sarebbe gravissimo sprecare questo progetto con appunto soltanto superbia di chi ci governa e non aprire poi alle stanze di chi conosce la materia. Quindi noi chiediamo un tavolo di concertazione al Presidente della provincia perché pensiamo che sia un'occasione forse l'unica, l'ultima da non perdere. Questa mattina con voi anche associazioni ambientaliste per accompagnare queste osservazioni al grande progetto del litorale. Come dicevo noi siamo per la partecipazione, non bisogna essere ottusi, abbiamo già visto casi in altre località italiane dove il progetto come viene presentato qui dalla provincia non ha avuto effetto. Quindi chiediamo un tavolo di concertazione perché Salerno e la provincia devono valorizzare il frontemare e questa occasione non deve essere un'occasione persa. Quindi pensiamo di poter dare una svolta con questo nuovo metodo di partecipazione anche qui alla provincia. Quindi si vede già un cambiamento nel metodo perché come consigliere provinciale ho portato la proposta del Plastic Free in consiglio e ora porterò anche questa richiesta di concertazione e apertura alle stanze delle associazioni e dei cittadini. Cosa sin da subito non vi piace di questo progetto? Abbiamo visto che i pennelli a mare previsti nel progetto oltre a deturpare l'estetica spesso però non hanno neanche l'effetto di arginare l'erosione. Abbiamo esempi in tutta Italia e quindi chiediamo di cambiare proprio l'approccio perché l'erosione va combattuta ma in altro modo.